La guerra è mediaticamente aggressione. Hanno fatto un consiglio comunale, non si fa in nessuna parte del mondo, è il sindaco, scegliere, e si prende le responsabilità. In questo anno e mezzo tutti hanno visto la sua serietà, la professionalità, che ha risolto mille problemi che altri non avrebbero risolto. Ce ne fosse stato uno che poi ha detto che ci siamo sbagliati, perché poi lo dicono in tanti modi che lui è eccezionale. Al consiglio comunale non ne possono fare a me, lo diamo, gli fanno mille problemi. Allora nessuno ha detto, scusa Renato, prima ti abbiamo aggredito e invece effettivamente è una persona eccellente. Ma se ci dà questa occasione noi lo faremo, ma se non ci dà questa occasione noi lo faremo.